ciao a tutti e bentornati sul mio canale primo appuntamento interamente dedicato alla post produzione e non potremmo cominciare meglio se non con una tecnica molto famosa e professionale che da tantissimi divi di vantaggi dal punto di vista estetico ma che molto spesso su video tutorial non è ben compresa dagli aspettatori quindi oggi cercherò di dare un apporto mio personale spiegandovela nel miglior modo possibile prima di tutto cos'è la separazione frequenze questa tecnica ci darà la possibilità di scomporre l'immagine in due livelli ben distinti quello più in alto ovvero l'alta frequenza sarà quello che determinerà solamente lineamenti dell'immagine quindi sto parlando di veri e propri tratti su uno sfondo grigio neutro il livello più in basso detto bassa frequenza è quello che raggruppa solamente i colori dell'immagine la forza di questa tecnica sta nel fatto che sovrapponendo questi due livelli avremo l'immagine esattamente come la state vedendo in questo momento che vantaggio ci può dare questo andando ad agire sulla bassa frequenza avremo l'opportunità di riprendere i colori ma soprattutto zone di chiaro scuro che vedete in questo caso si trovano ad esempio in queste parti oppure le zone più scure che poi vanno a determinare un po' l'occhiaia della modella sull'alta frequenza invece avremo l'opportunità di andare a riprendere questi piccoli dettagli queste piccole imperfezioni della pelle per rendere tutta la superficie perfetta ma basta parlare andiamo a vedere cosa dobbiamo fare prima di tutto dobbiamo duplicare il livello due volte con command j possiamo farlo molto rapidamente e consiglio di andare a rinominare i livelli stessi ovviamente quello più sotto è bassa frequenza mentre quello sopra è alta frequenza facciamo sparire per un attimo il livello alta frequenza e concentriamoci sulla bassa frequenza quello che dovremmo fare e andare su filtro controllo sfogatura e partendo da un valore molto basso aumentarlo piano piano fino a quando non avremo una sensazione di sfogato che ci fa perdere i dettagli dell'immagine ecco vedete che da qui a qui c'è stato uno stacco molto visibile che ci indica il fatto che stiamo operando con il giusto valore di controllo sfogatura spingiamo ok e facciamo ricomparire l'alta frequenza andiamo su immagine applica immagine la prima cosa che dobbiamo fare è scegliere su quale livello l'alta frequenza deve essere applicato quindi ovviamente scegliamo bassa frequenza e già vedete che sono usciti tutti i lineamenti ma soprattutto dobbiamo andare su sottrai e impostare scala 2 sposta 128 questo ci darà la possibilità di avere un grigio neutro e un dettaglio di lineamenti e altro che fuso con la bassa frequenza spingale spingere ok mi darà la possibilità di avere l'immagine esattamente come era all'inizio per farlo devo andare sui metodi diffusione e cliccare su luce lineare vedete che come per magia l'immagine è tornata a essere esattamente come era prima solo che in questo caso è composta dai due livelli che ho creato infatti io posso benissimo andare a nascondere questo livello livello iniziale e non cambia assolutamente niente perché l'immagine è composta adesso da questi due livelli riattivando e facendo scomparire l'alta la bassa frequenza vi accorgerete che non cambia assolutamente nulla questo perché ripeto i livelli che ho appena creato sono l'esatta copia del livello originale tenendo sempre attivi entrambi all'alta frequenza e la bassa frequenza vado ad esempio sulla bassa e comincio a lavorare su quelli che sono i chiaroscuri dell'immagine posso servirmi del lazzo uno degli strumenti più banali per selezionare e con una sfocatura che sta sempre intorno ai 15 20 pixel a volte anche di più dipende dalla grandezza dell'immagine io mi attesterò sui 19 circa vado a prendere le zone scure che voglio modificare faccio attenzione a non prendere le parti che vanno già bene e mi dirigo sul filtro controllo sfocatura aumentando e abbassando il valore vedete che l'ombra tende a sparire ovviamente se aumentate troppo si ottiene l'effetto contrario quindi cerco la situazione più omogenea e spingo ok command o control d per deselezionare e già un primo risultato è visibile vado a fare la stessa cosa su queste altre zone qui è ancora più visibile l'effetto cerco di non esagerare ovviamente e già così c'è moltissima differenza andiamo a vedere il prima e dopo veramente incredibile ora vado a prendere queste zone un po sotto gli occhi che di solito sono un po fastidiose e anche da questa parte il bello di questa tecnica è che io ho modificato solamente i colori senza intaccare la texture della pelle che è rimasta originale la potenza delle alte e basse frequenze è proprio quella di mantenere lo stato originale della pelle per andare a modificare l'estetica generale del viso ora non andrò a prendere tutte le zone chiaroscure se no il tutorial potrebbe durare anche più di mezz'ora ma andiamo a dirigerci sull'alta frequenza l'alta frequenza ci dà la possibilità di mettere a posto queste piccole imperfezioni della pelle grazie a strumenti come timbro clone o pennello correttivo ora ci sono tante scuole di pensiero su quale strumento scegliere a me piace particolarmente il pennello correttivo ma non la toglie che potresti usare anche il timbro clone vado a rimpicciorire il pennello si usa con pennelli molto piccoli proprio per non perdere la texture originale e andiamo a settare il pennello correttivo su livello attuale questo perché dobbiamo campionare solamente il livello dell'alta frequenza andiamo a campionare vicino vedete dove sta la croce consiglio di campionare molto spesso proprio per avere la possibilità di ottenere un risultato più omogeneo guardate già in questo punto quanto è cambiato vado a levare altre piccole cose che trovo qua e la cambio anche la grandezza del pennello a differenza del puntino che devo andare a correggere molto importante è campionare il punto giusto questo perché se io vado a campionare una zona di pelle adesso lo farò un po più grande per farvi vedere che non è simile avrò un effetto molto surreale come potete vedere sembra che la pelle qui sia più rovinata a noi non interessa questo tipo di effetto basta semplicemente ripeto campionare nei punti dove la pelle pulita e spennellare lì sul neo sulla piccolo taglio imperfezioni eccetera eccetera qua in particolar modo possiamo anche andare a prendere piccoli elementi come questo che sono ben staccati dal resto perché sennò se vado a campionare ea clonare in un punto troppo vicino a una zona con un colore totalmente diverso si creeranno dei fastidiosi aloni è ottimo anche per togliere dei capelli andiamo a vedere consiglio di campionare e scendere in maniera molto parallela rispetto al capello proprio per avere una continuazione della texture sempre omogenea campionate in punti leggermente diversi per arrivare fino alla fine del capello ed ecco qua il risultato andiamo a vedere qualche piccolo neo ma il compito è molto semplice ho fatto veramente poco fino adesso potrei fare molto di più andando a prendere altre piccole zone del viso che sono da modificare sapere usare bene la separazione frequenze vuol dire andare nel dettaglio e perderci un pochettino di tempo ma con la pratica sicuramente vi velocizzerete moltissimo andiamo a vedere per l'ultima volta il prima e dopo direi veramente notevole si possono fare tantissime cose con questa tecnica basta saperla usare con moderazione altrimenti il problema è che si andrà incontro a una pelle sempre più omogenea e sempre meno reale consiglio quindi di mantenere un grado di realtà questo per evitare il classico effetto pelle di manichino che purtroppo oggi si vede in tantissime foto bene spero che anche questo tutorial vi sia stato utile se avete domande scrivetemelo nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella seguitemi anche sui social facebook e instagram e ricordate che sul mio sito www.fabriziotoria.com potrete trovare tante risorse utili per abbellire ancora di più le vostre immagini per ora vi saluto e noi ci vediamo la prossima settimana ciao